Il personale della squadra mobile volante dell'Aquila è intervenuto in via Vetoio a seguito della segnalazione giunta presso il locale della sala operativa per una violenta lite in atto tra due concittadini extracomunitari all'esterno di un centro commerciale. Giunta prontamente sul posto, la pattuglia ha notato un uomo di colore a terra con evidenti segni di colluttazione sul viso e un altro che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga ma è stato preso a poca distanza per identificarlo e ricostruire la vicenda. Si è quindi scoperto che un uomo, 27 anni nigeriano e richiedente asilo politico, aveva aggredito, colpendo con pugni sul volto e calce all'altezza del costato, un suo connazionale che stava per entrare in un'attività commerciale con lo scopo di sottrargli dalla tasca il telefono cellulare e di rubare il denaro del borsellino. Solo il pronto intervento della polizia e del titolare dell'attività ha permesso di far desistere, dal proprio intento, il malvivente che, vistosi alle strette, ha cercato inutilmente di fuggire. La vittima ha raccontato l'intera vicenda agli operatori, che hanno quindi arrestato il 27enne per il reato di tentata rapina. All'esito dell'udienza di convalida, con rito direttissimo, l'arrestato veniva sottoposto da parte del GIP Mario Cervellino e su richiesta del sostituto procuratore David Mancini, alla misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti. Il giudice ha sottoposto altresì l'invio degli atti presso la commissione competente a valutare l'istanza di richiedente asilo politico.